Gentile amiche ed amici, eccoci in questo nostro appuntamento domenicale. Oggi è la ventinovesima domenica del tempo ordinario e più tardi in cattedrale, alle ore 18, ci sarà una celebrazione eucaristica in cui il Vescovo inizierà il cammino sinodale della nostra chiesa di Palermitana. È importante questo che Papa Francesco ha voluto, cioè che in tutte le chiese locali si facesse un cammino insieme, la chiesa è la famiglia di Dio e tutti sono fratelli. In questa famiglia di Dio tutti hanno bisogno di camminare insieme, non da soli e quindi è importante che noi preghiamo per la buona riuscita di questo cammino sinodale della famiglia di Dio che è a Palermo. E oggi il Vangelo è preso dal capitolo decimo del Vangelo di Marco nei versetti 35 e 45 e dice così. In quel tempo si avvicinaranno a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli, maestro vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo, maestro. Rabi, Gesù è il maestro, colui che deve darci delle lezioni di vita e vedremo dove ci dà queste lezioni di vita, dove e come ce li dà. Cosa chiedono questi due apostoli? Chiedono un privilegio, chiedono di essere i primi, di avere i posti più importanti. È una grande tentazione sempre nella Chiesa di tutti i tempi, dalle origini come stiamo vedendo, quello di cercare sempre di strumentalizzare Gesù per avere sempre più potere e più, diciamo, primi posti. Egli disse loro, che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero, concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Concedici l'onore, il potere, la gloria, il privilegio. Ecco, da Dio noi cerchiamo sempre di ricavare un guadagno e loro volevano guadagnare questo qualcosa. E allora Gesù come risponde? Gesù disse loro, il calice che io bevo, cioè la croce, il dolore, la sofferenza, anche voi lo berrete. Giacomo, per esempio, morirà martire, come ci dice il Libro degli Atti degli Apostoli, è stato ucciso per la sua fede. Anche voi lo berrete e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati, cioè anche voi darete la vita per me, ma sedere alla mia destra o la mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gesù dice, ecco, concedervi questo non è nella mia autorità. Gli altri dieci apostoli, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Immaginiamo la scena, perché anche loro avrebbero voluto ricevere forse una parte di gloria. E Gesù cosa dice? Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro, ecco l'insegnamento che il maestro dà. Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Ecco, c'è un modo di esercitare il potere, dominando, sfruttando, asservendo. Tra voi però non è così. E quindi c'è la lezione. Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Ecco, nella Chiesa la vera grandezza è il servizio. Nella comunità cristiana i discepoli del Signore sono dei servi, tant'è che il Papa si definisce servo dei servi di Dio. Servire il Signore nella gioia. Il primo tra voi sarà il servo, il diacono di tutti. Anche il Figlio dell'Uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire, pensiamo Gesù che lava i piedi degli Apostoli, e dare la propria vita riscatto per molti. Ecco, il servizio è un dono di sé, è un donare la vita per la felicità degli altri, perché la felicità la si acquista quando la si è donata. Grazie per avermi ascoltato. E ancora una volta, prima di concludere, voglio rivolgere un invito a tutti e tutte le persone buona volontà che vogliono darci una mano di aiuto nel doposcuola che l'Associazione Cuore che vede ha iniziato a fare dal 4 ottobre per i ragazzi e per i bambini del nostro territorio di Romagnolo, Sperone, Brancaccio e Sette Cannoli. Grazie ancora e buona domenica a tutti e a tutte.